Molti gli argomenti che ieri in diretta a Ring il sindaco di piazza ha affrontato stimolato da Ferdinando Avarino e dagli sms degli spettatori. A cominciare dal futuro di Salatripkovic che vede il sindaco più che combattivo è intenzionato ad agire quasi da riscegliere. Roma ci sta chiedendo alcuni favori. Su cosa? Sul Narodidom, sul Gregoretti. E io chiederò lo stesso favore a Roma. Che favore chiederò? Se lei vuole questo, se lei vuole che io le do il Gregoretti, lei mi autorizza l'abattimento della tregua. In modo di un bello mai visto, anzi proprio bellissimo. Restando in zona, questione silos. Ecco, il silos vicino alla stazione. Il silos sono venuti da me, quelli delle Coop, hanno i finanziatori e probabilmente partirà anche quello, anche perché adesso con il movimento del Portovecchio è chiaro che tutto diventa molto più appetibile. Il silos, oggi diciamo che da 1 a 10 mi gioco 8. Per quel che riguarda Portovecchio, Di Piazza ha anticipato l'intenzione di insistere sulle aree verdi. sgambatura. Nel Portovecchio troverete una situazione di verde fantastica. Beh, lei ha definito Bosco Urbano. Guardi che è un bel titolo questo. È la verità. Di Piazza ha intervenuto anche sulle problematiche collegate alla sicurezza stradale dopo gli incidenti degli ultimi mesi, a partire da quello di Piazza Goldoni. vedete lo spartitraffico dietro in fondo dove c'è quel segnale? Alla coda del bus. Lo allungo, lo allungo in maniera che il bus si presenterà parallelo in verticale sull'amazzini. dobbiamo fare attenzione. È incredibile che uno passi con il rosso. Infine il sindaco ha fatto il punto anche sui nuovi alberghi che verranno ad insediarsi in città. Il Palazzo Caliter ci sarà un albergo e l'altro, la più grande catena al mondo, non faccio il nome, la più grande catena al mondo? Apre dietro l'Argo Panfili. Apre dietro l'Argo Panfili. Per cui, cari concittadini, questo interesse, questo studio che fanno questi che arrivano, vuol dire che hanno capito che la città ha delle potenzialità importanti. Io ragiono così. Questi che arrivano a Trieste arrivano perché hanno studiato la piazza e sanno che arriverà tanto, tanto lavoro.